fotocamera in mano e pronta allo scatto la rivista bimestrale costruire il futuro di ance brescia lancia la prima edizione del concorso fotografico fotografiamo il futuro obiettivo edilizia rivolta a fotografi professionisti amatoriali ai nostri microfoni adriano baffelli direttore della rivista costruire il futuro tra gli iscritti si aspetta un gruppo giovanile con idee aperte verso il futuro il concorso fotografico fotografiamo il futuro obiettivo sull'edilizia che abbiamo promosso come rivista con ance brescia perché la rivista costruiamo il futuro è espressione di ance brescia anzitutto vuole creare sinergia tra l'immagine quale elemento culturale e l'edilizia bresciana c'è un altro aspetto che questa iniziativa cade in una fase in cui il settore è protagonista di un avanzato rebranding vale a dire un suo riposizionamento l'edilizia in particolare quella bresciana costituita da realtà molto serie molto capaci molto dinamiche non si riconosce più in un settore fermo vecchio come molti ancora continuano a vederla un settore che non si innova anzi è tutt'altro è molto dinamico è un settore aperto ai giovani i giovani che possono usufruire della scuola edile una delle migliori d'Italia per prepararsi per prepararsi a un futuro ricco di lavoro perché le imprese stanno chiedendo occupati ma devono essere occupati preparati in sinergia con brescia bergamo 2023 capitale univoco della cultura abbiamo con piacere anche la presenza del comune di brescia che ha dato il patrocinio a questa iniziativa e alla mostra che sarà ospitata al moca nell'autunno del 2022 questo in sintesi vuole essere il concorso fotografico fotografiamo il futuro obiettivo sull'edilizia